Un corpo senza vita, in pigiama, ai piedi di un palazzo, sotto una finestra o un balcone. Quando lo vediamo nei film, di solito è l'inizio di un giallo avvincente, una storia misteriosa. Quando succede nella realtà, beh, la faccenda si complica parecchio, ancora di più se quel corpo appartiene a un importante politico, addirittura a un ministro degli esteri. Proprio questo capitò a Praga il 10 marzo del 1948. La vittima si chiamava Jan Masaryk. Era il figlio del primo presidente cecoslovacco e durante la Seconda Guerra Mondiale era stato costretto a rifugiarsi a Londra in esilio. A guerra finita nel 1947 avrebbe dovuto andare a Parigi, alla conferenza internazionale sul piano Marshall, ma fu convocato a Mosca e Stalin gli ordinò di abbandonare le trattative. L'Unione Sovietica non voleva che la cecoslovacchia partecipasse al piano Marshall promosso dagli Stati Uniti. Vi ricorda qualcosa? Non sbagliate. Masaryk obbedì, ma rese pubblico il suo dissenso. E un anno dopo morì in quelle strane circostanze. Omicidio o suicidio? Solo nel 2004, oltre mezzo secolo dopo, un'inchiesta ha stabilito che non si era buttato. Letteralmente era stato lanciato dalla finestra. Eliminare fisicamente gli oppositori politici è una pratica in voga fin dall'antichità. Capitò Giulio Cesare, è successo a re, a imperatori, a rivoluzionari. La storia è piena di omicidi politici e di misteri. Purtroppo nel mondo accadono ancora oggi, soprattutto nei regimi e nelle dittature. Come difendersi? Mai credere alle bugie e mai smettere di cercare la verità. La storia è piena di cercare la verità.